Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sarà ricostruito il ponte del Coppetto che collega Ostra a Ostravetere, distrutto dall'alluvione del settembre 2022 e da allora inutilizzabile. A un anno da un episodio che ha sconvolto la vita dei residenti e fatto 13 vittime, chi a due passi dal ponte ci abita o ci lavora, chiede ora ai politici che ieri hanno presentato il progetto definitivo e annunciato i lavori che termineranno nell'autunno 2024, che la promessa venga mantenuta per recuperare un collegamento strategico indispensabile per vivere e lavorare, sperando che la buona notizia comunicata nel municipio di Ostra possa presto diventare realtà. Signora, presenziato alla conferenza stampa di presentazione del progetto del ponte, lei abita proprio qui a due passi dal ponte, quindi una buona notizia in ogni caso per ricordare anche... Notizia buona, quella che aspettavamo, in pratica sta partendo il progetto, continuano questi lavori di manutenzione del fiume che ci dà un attimo di sicurezza, quindi è positivo questo incontro è stato. Che ricordava di quei giorni? Beh, ricordo che si vive un attimino con la paura, adesso che stanno pulendo il fiume si sta un po' più tranquilli. Un fiume, il Misa, che vi ha fatto davvero un brutto scherzo? Sì, anche perché comunque era un fiume trascurato, non si facevano più lavori di pulizia e invece adesso vediamo che ci hanno messo le mani, come si dice, stanno facendo grossi lavori e è un momento insomma dove vediamo dei risultati. Ha avuto paura da quella notte nel corso di questi mesi? Sì, anche perché ci sono state delle allerte continue, quindi certo. Quella voragine poi sul fiume che ancora c'è? Chiesto la conferma che venga presto demolito, prima ancora poi della costruzione che avverrà primavera, perché avere un ponte così non sicuro, perché non sappiamo neanche i danni che sono stati procurati, quindi è importante che venga demolito prima dell'inverno. Adesso, a distanza di 12 mesi, sarà importante iniziare in tempo i lavori e soprattutto terminarli entro la data annunciata. Un ponte che praticamente sta per essere ricostruito. Ma dopo un anno? È un anno che è successo. Questo ponte è crollato l'anno scorso, dopo un anno ci hanno abbandonato praticamente. Non c'è stato nessun ponte provvisorio, solamente promesse, faremo, faremo, faremo e ancora non l'hanno fatto, perché ci dicono a fine anno che inizieranno i lavori e non si sa quanto dureranno. Cioè, sta gente qui, i locali, manca la gente che deve attraversare questo ponte. Questa è una strada provinciale, comunica la Valle Sina con la Valle del Misa e del Nevola. Cioè, era una strada importante, non è stato fatto niente in un anno. I ponti sono due, però c'è questo ponte qui vicino a voi? Questo è il principale, perché l'altro delà, bene o male, si riesce a non allungare troppo la strada, ma tutti gli operai che devono andare a lavorare da questa parte o questi viceversa dall'altra parte, sono costretti a fare un giro. quindi passare o stra, paesi, fare un giro di 10-15 km per raggiungere l'altra parte. Ripeto, questa è la strada principale di comunicazione e non è stato fatto niente.